Salve, future stelle del football. Io sono la Francesca. Oggi, come potete vedere dal titolo, parliamo di fantasy che io trovo essere troppo sottovalutati. Non se ne parla abbastanza di questi libri. Due disclaimer prima di iniziare. Allora, numero uno, la maggior parte dei libri che amo non se li cacca a pari nessuno. Quindi, se mi seguite da tanto tempo, soprattutto, potreste vedere libri di cui io parlo, e straparlo, e riparlo. Ma il nome del mio canale l'ho scelto per un motivo. Mi sembrava giusto parlare dei libri che veramente, penso, siano meritevoli, ecco. E quindi, purtroppo, sono quelli magari di cui parlo sempre, ok? Ma sono quelli di cui parlo sempre solo io, quindi mi sembra giusto riportarli alla vostra attenzione. Perché di alcuni di questi, per esempio, non parlo da due minuti. Quindi mi sembrava il caso di riparlarne. Disclaimer numero due, ho diviso questo video in due parti. Nella prima parte parlo di libri che sono stati anche tradotti in italiano, e nella seconda parte quelli che esistono solo in inglese. Quindi potete guardare la parte che vi interessa di più, entrambe. Comunque, in descrizione trovate tutte e due le parti, in modo che possiate andare direttamente a quella che vi interessa di più. E quindi cominciamo subito. Cominciamo subito con i libri in italiano, che esistono anche in italiano. Il primo libro di cui voglio parlare è I guerrieri del Wild. Questo è un libro che, purtroppo, secondo me, è veramente poco conosciuto, poco apprezzato. E secondo me è anche uno di quei fantasy che può essere apprezzato sia da chi ama il fantasy, che ne ha letto tantissimo, sia da chi è alle prime armi. Perché infatti ha uno stampo quasi tradizionale, anche nella struttura della storia. Però aggiunge molti elementi originali e uno stile veramente unico. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, noi ci troviamo in questo mondo ispirato a Dungeons & Dragons. Quindi un mondo fantasy abbastanza tradizionale, ok? Quindi con guerrieri, soldati, stregoni, maghi, bardi e chi ne ha... E chi più ne ha, più ne metta, ok? Però è stata aggiunta anche una particolarità a questo mondo. Ovvero che queste band, queste bande di guerrieri, di eroi, tipiche appunto di una campagna di Dungeons & Dragons, sono trattati come vere e proprie star, come band musicali. Infatti questo libro è ispirato alle band, alla musica anni 70. Il nostro protagonista faceva parte proprio di una di queste band. Era famosissimo, era conosciuto ovunque. Però dopo anni e anni di lavoro, diciamo, tutti i membri della banda hanno deciso di prendere la propria strada. Chi si è accasato, chi continua a fare il guerriero, chi è scomparso misteriosamente. Infatti il nostro protagonista ha trovato una moglie, ha avuto la figlia e adesso vive la sua vita abbastanza in tranquillità. Però tutto cambia quando alla sua soglia arriva uno dei suoi vecchi compagni di avventure, il frontman della band, praticamente, che lo implora di aiutarlo un'ultima volta a trovare tutti i loro vecchi amici, riformare la band per un'ultima missione. Infatti la figlia di questo frontman è stata rapita e portata nella zona più pericolosa di questo regno. E quindi il nostro protagonista decide di appunto partire per quest'ultima missione. Quindi, cos'ha di tradizionale? Sicuramente l'ambientazione, soprattutto se conoscete molto bene Dungeons & Dragons, sono creature tipiche del gioco, i ruoli dei vari membri della banda sono riconducibili a quel gioco, anche magari luoghi visitati così, e ovviamente la trama è quella di una quest. Quindi il viaggio alla ricerca di cosa della figlia in questo caso. Però, secondo me, quello che c'è di unico è appunto questo concetto della campagna di Dungeons & Dragons, dei membri di questa campagna come membri di una band, del fatto che fossero delle celebrità, quindi c'è qualche elemento di quasi modernità, quasi parodistico, ecco. E uno stile veramente che io ho adorato, uno stile molto comico, molto buffo, è molto ridicolo quello che succede, ecco. Molto molto, quindi non aspettatevi qualcosa di serio, anzi tutt'altro. Però c'è anche un bilanciamento con elementi molto più seri, quasi drammatici, molto 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 emozionanti, ecco. Perché ovviamente si parla di amicizia, si parla anche di famiglia, e anche di persone più adulte. Cioè, di solito il fantasy parla magari della crescita di un personaggio, di un ragazzo, una ragazza, che sono alle porte della vita proprio. Invece questi protagonisti hanno già avuto il loro momento di gloria, quindi si parla anche di quello, ovviamente, come vi ho detto, di amicizia, di cosa vuol dire comunque dover prendere a un certo punto della vita ognuno la propria strada. E di famiglia, ovviamente, perché al centro di tutto c'è anche il rapporto tra il frontman anche della band e la figlia, anche se lontana. E il protagonista stesso decide di affrontare quest'ultima missione pensando alla propria figlia, alla propria famiglia, quindi a quello che farebbe per salvarla, ecco. Quindi prendere parte anche a una missione impossibile. E quindi, niente, è un libro che ha molto cuore e ve lo consiglio davvero, sia se siete alle prime armi, sia se ne avete già letti tanti, è il primo di una trilogia. Per ora, in inglese, sono stati pubblicati solo i primi due, in italiano solo questo, però ogni libro di questa trilogia segue personaggi diversi. Stesso mondo, ma personaggi diversi. Quindi questo può essere letto tranquillamente come un autoconclusivo. Poi andiamo allo young adult, ecco. Non mi sono incatenata solo all'adult, perché secondo me ci sono molti libri young adult, quindi pensate anche per un pubblico di ragazzi, che secondo me meritano molto. E vi tiro fuori un'autrice che, sì, è conosciuta, si è apprezzata, ma non tanto quanto vorrei. E sto parlando di Laini Taylor. Questo è La Chimera di Praga. Questa è la nuova edizione in inglese, che secondo me è spettacolare. Cioè, questa artista è spettacolare. Una delle copertine più belle del mondo, ma so che è molto particolare, quindi magari non è apprezzata da tutti. Non tutti possono avere dei gusti d'élite. Io vi consiglio entrambi le sue serie, cioè La Chimera di Praga e Il Sognatore, però mi sembra che Il Sognatore sia abbastanza apprezzato. Quindi volevo prendere questa occasione per parlarvi invece della Chimera di Praga. La Chimera di Praga, vi ripeto, è uno young adult. Lo chiamerei paranormal, perché almeno nel primo libro siamo più che altro a Praga, ovviamente. Cioè, mi sembra chiaro. Seguiamo, infatti, questa ragazza Karu, una ragazza giovane che vive a Praga. Però lei, diciamo, ha dei legami con la parte magica di Praga. Infatti è stata allevata da creature molto, molto strane, molto particolari, e ha un legame inaspettato con praticamente un mondo parallelo. E si ritroverà nel bel mezzo di una guerra tra specie diverse, tra creature magiche. E qui, non ve lo sto a spiegare troppo, dovrò essere vaga, perché l'inventiva di Laini Taylor è pazzesca. C'era sarebbe tantissimo da dire. Ogni volta nelle sue serie Laini Taylor crea delle mitologie originali, incredibili, veramente belle. Ed è appunto per questo che io vi consiglio tanto questa serie. Se avete già letto Young Adult di ogni genere e tipo, questo veramente sarà una ventata d'aria fresca. È vero che, più avanti con la serie, forse si dilunga un po' troppo. Secondo me non è una trilogia priva di difetti. Comunque mi piace molto di più Il Sognatore. Però, secondo me, è veramente meritevole. Meriterebbe molta più attenzione. C'è anche una storia d'amore al centro, diciamo, della storia. Però è davvero diversa dalle altre storie d'amore Young Adult. È molto dolce anche qui e si sente, diciamo, la gravitas che sta attorno a questa storia d'amore. Perché è un amore impossibile. Si potrebbe anche parlare di Instalove, quindi c'è uno sviluppo abbastanza veloce della situazione. Però, incredibilmente, a me è piaciuto. Cioè, io, nonostante sia la prima generalessa dello Slow Burn, questa storia d'amore mi è piaciuta tanto tanto, appunto, perché anche sono divisi dalle circostanze e c'è un motivo perché è Instalove, quindi lo giustifico. E quindi, niente, vi ripeto, se volete qualcosa di assolutamente originale, mai visto, vi consiglio uno qualunque dei libri di Laini Taylor. Poi qui passiamo veramente a quello che vi dicevo prima, ovvero i libri di cui parlo sempre. Però lo devo fare, ragazzi, lo devo fare, perché sennò non dormirei la notte. Ovvero, vi voglio parlare del Dardo e la Rosa di Jacqueline Carey, che secondo me è un romanzo pazzesco. Ho letto due libri su tre della trilogia e sono stata veramente folgorata da questa serie. Di cosa si tratta? Questa è una serie abbastanza vecchiotta, cioè alla mia età, diciamo, 23 anni. Sì, ogni tanto mi scordo quanti anni ho, però secondo me regge benissimo. A parte qualcosina, vabbè, ma lì... Vabbè, capirete. Questa è una serie che segue la nostra protagonista, Fètre, fin dall'infanzia. Ci troviamo in questo mondo, in questa Europa alternativa, dove invece del cristianesimo ha preso piede in Europa un'altra religione. Una religione che si basa sull'amore libero, quindi è praticamente opposta al cristianesimo. E l'amore, il sesso, è proprio un'arte. Ed è studiata, ed è anche incoraggiata. È un amore libero, un amore ovviamente consensuale, però appunto è un world building super particolare. E noi seguiamo appunto Fètre, questa ragazza che nasce con il dardo di Cuscel, o Cuscel, non so, cioè una scaglia, una scaglia rossa nell'occhio, che la indica come prescelta di uno dei santi di questa religione. E questo dardo non si vedeva da generazioni e generazioni. E chi è questo santo? Chi è Cuscel? Beh, è il protettore di Christian Grey, dico sempre. E cosa vi sto dicendo? Lei prova piacere nel dolore, cioè lei è indistruttibile. La tortura non le fa niente, anzi, le fa molto piacere. Quindi se volete farle un regalo di compleanno, organizzatele una bella tortura al bullying, immagino. Cioè invece di giocare al bullying, torturiamola. E quindi noi appunto seguiamo in questo primo libro anche tutta la sua infanzia. Finché non diventerà a tutti gli effetti una cortigiana, ma in questo mondo essere cortigiane vuol dire avere una posizione d'onore, ecco perché come vi dicevo, essere, cioè l'arte della sensualità è un'arte importantissima in questo mondo e quindi finirà, diciamo, proprio nel bel mezzo di complotti, colpi di scena, macchinazioni, quindi dei giochi politici che lei non immaginava neanche. Lei si ritroverà proprio al centro di tutto. E alla fine di questo primo libro vi sembrerà veramente di aver letto una saga intera, perché a questa povera donna le ne succedono di tutte. Ma perché mi piange il cuore per il fatto che nessuno parli di questa serie? Perché è una serie veramente incredibile. Dalla scrittura, che mi ha ricordato molto anche quella della Marillie, quindi ti racconta appunto da magari l'infanzia della protagonista, va abbastanza spedita con questa storia, però ti fa immergere in questo mondo, un mondo veramente curato alla perfezione, uno dei mondi più interessanti di cui abbia mai letto, perché non solo proprio sembra vivo, però crea una discussione interessantissima, guardando anche i parallelismi invece con il nostro mondo. Quindi questo cosa sarebbe successo se ci fosse stata una religione del tutto opposta al cristianesimo. Quindi pone anche questioni etiche, e morali non è un mondo perfetto assolutamente, però veramente è interessante. In più viaggiamo insieme a Fedra anche negli altri libri della serie e vediamo un po' tutta questa Europa e appunto la cura che Jack and Carey ha messo nel costruire questo mondo è incredibile. Poi ovviamente abbiamo tanti personaggi, abbiamo tanti intrighi costruiti benissimo e anche le scene più spinte, diciamo, non sono mai, non voglio dire volgari, però siccome in questo mondo è un'arte, quello che fa Fedra è descritto come tale, quindi veramente con una delicatezza, con una poesia incredibile. Però vi ripeto, non è mai uno stile di scrittura che ti fa arrancare, molto descrittivo, no, è proprio dritto al punto, ma le parole sono scelte con cura. Non so se vi riesco a far capire quello che voglio dire. Una stile di scrittura curato, immersivo, non ti rendi neanche conto di star leggendo e Fedra è un personaggio meraviglioso, sfaccettato, non perfetto, ha dei poteri che nel fantasy non si vedono. Ve lo dico, i suoi poteri sono particolari e fa un viaggio meraviglioso, a mio parere, in questi libri. Ogni libro, almeno sia il primo che il secondo, sono autoconclusivi, ognuno racchiude una storia legata a Fedra e al suo mondo. Sì, è una sorta di trono di spade, ok? Però dove il sesso è giustificato e non ci sono stupri a destra e a manca, ok? Non è corale, ecco, come il trono di spade, la protagonista è una, però è costruita talmente bene che non puoi non innamorartene. In più, comunque, si riescono a vedere anche tantissimi altri personaggi per cui ognuno ha un ruolo preciso in questa grande macchina politica che è questa Europa Alternativa. Niente, data la complessità, la cura nei dettagli, il war building, i personaggi, io non riesco a capire perché non sia più popolare questa serie. Non lo so. In più c'è anche una sottotrama romantica, però non prende troppo spazio, anzi è una delle cose che apprezzo un po' di meno di questa serie, perché non mi piace molto come viene sviluppata, però appunto non prende tantissimo piede nella trama. Poi, qui proprio mi picchierete con un badile, perché questo autore di cui sto per parlare è uno dei più popolari del fantasy, punto, però tra tutti i suoi libri questo non viene mai considerato, mai, mai, mai. E secondo me non solo è uno dei suoi libri più belli, ma anche un ottimo punto per iniziare ad affrontare i suoi libri e il suo universo. Sto parlando di Brandon Sanderson e in particolare del Conciliatore, ok? Lo so, lo so che ha questa copertina che sembra la pubblicità della Levissima, purissima, ma fidatevi, fidatevi. Questo libro è autoconclusivo, ok? Brandon Sanderson vuole scrivere dei seguiti, ma forse li vedremo nel 2079, quindi potete leggerlo tranquillamente, perché dico appunto che è uno, secondo me, un punto di partenza ottimo per entrare nel cosmoverso, perché è uno dei primi libri che ha scritto, però è anche autoconclusivo, come vi dicevo, quindi non dovete per forza impegnarvi a leggere un'intera serie, ok? Quindi avrete la vostra storia chiusa in un bel fiocchetto. In più, secondo me, racchiude un po' tutto quello che le storie di Sanderson solitamente ti danno, cioè abbiamo un po' di azioni, intrighi, un pelino di storia d'amore, per ora la storia d'amore più bella, secondo me, del cosmoverso, l'ho detto, un sistema magico complesso, ma spiegato in maniera chiara, un sistema magico originalissimo, tanti personaggi, tutti costruiti molto bene, cioè si ride, si piange, è veramente un libro, secondo me, bellissimo. Di cosa parla questo libro? Seguiamo due sorelle, Siri, sì, Siri, ok? E Alexa, no? Ci avete creduto? No. E Vivenna. Queste due principesse sono state cresciute molto diversamente, perché infatti Vivenna è la maggiore e fin da piccola è stata addestrata proprio alla vita di corte, perché dovrà essere data in sposa al cosiddetto Re Dio, ok? Un nome, un programma. Questo Re Dio è una figura misteriosissima, potentissima, la più potente del mondo e appunto gli si dovrà dare una moglie e quindi Vivenna è stata cresciuta proprio a questo scopo. Invece Siri è la sorella minore, uno spirito molto più libero e è sempre stata considerata pochissimo rispetto alla sorella, quindi a lei poteva fare tutto quello che le pareva, diciamo. è una persona molto attiva, molto sveglia, però ha poche catene, ecco. Però all'inizio del libro noi scopriamo che il padre ha improvvisamente cambiato idea e ha deciso di mandare Siri invece che Vivenna nel regno di questo Re Dio e decide di dare sposa a lei invece che Vivenna e quindi seguiamo le loro strade parallele, quindi Siri che va in questa città completamente diversa da quella da cui viene e appunto il suo incontro con il Re Dio e tutto quello che ne consegue. Vivenna invece si preoccupa troppo per la sorella, pensa che non ce la potrà fare da sola, la immagina già in pericolo perché diciamo questo Re Dio non ha una grande reputazione e quindi decide di seguirla e si scontrerà con una realtà anche lei totalmente diversa da quella a cui è abituata, andrà proprio sotto copertura nei bassi fondi della città alla ricerca di aiuto. In più noi seguiamo anche Vashar che ha questo guerriero super misterioso con una spada parlante molto simpatica e Light Song non mi ricordo come si chiama in italiano comunque uno di questi dei che popolano la città. Del sistema magico vi potrei dire tantissime cose vi basterà sapere che si basa sul colore sul rubare il colore alle altre persone che è come rubare l'anima e usarlo per diventare più potente o animare anche oggetti inanimati insomma anche qui come tutti i sistemi magici di Brandon Sanderson ci sarebbe da scrivere un libro intero però lui l'ha fatto effettivamente vabbè ma in questo caso mi limiterò a questo quindi si basa sui colori punto ok vi assicuro molto originale quindi come vi dicevo io ve lo consiglio tantissimo perché è proprio un romanzo fantasy secondo me ha tutto quello che dovrebbe avere un romanzo fantasy proprio completo non so come dire infatti è diventato presto uno dei miei preferiti in assoluto non solo di Sanderson ma in generale e come vi dicevo ha un pizzico di qualcosa per tutti molti vorrebbero vederlo trasposto come un cartone animato Disney con tanto di canzoni io sono molti ok quindi per farvi capire un po' il tono di questa di questa storia molto fiabesca molto avventurosa c'è un po' di amore come vi dicevo si ride si piange veramente bello 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 quindi piuttosto che Mistborn che appunto è una serie intera e magari un po' più difficile ingranare con Mistborn secondo me questo è un ottimo punto di partenza per iniziare a leggere Sanderson passiamo invece a quelli in inglese che magari un giorno saranno tradotti non lo so abbiamo The Undertaking of Heart and Mercy mancava un po' di romanticismo in questo video e quindi ve lo metto subito qua questo è un romantasy è ambientato in un mondo ovviamente fantasy che però ricorda in qualche modo i giorni nostri ecco ha le tecnologie moderne i vestiti moderni eccetera eccetera però è un altro mondo ok ci sono creature magiche magia e soprattutto c'è un mondo parallelo dal quale arrivano creature mostruose ok fidatevi c'è più c'è molto di più da dire però vi basterà sapere questo queste creature mostruose sono tenute a bada da questi sceriffi uno di questi sceriffi è proprio Heart uno dei due protagonisti che quando riesce a sconfiggere uno di questi mostri lo deve portare dalle pompe funebri anche qua è più complessa di così vi basterà sapere questo e chi lavora le pompe funebri se non Mercy questa ragazza che si occupa di questa attività di famiglia che solitamente è molto solare molto amichevole ma non può vedere Heart loro due non si sopportano dal primo incontro che non è enemies to lovers non si stanno molto simpatici però cosa succede un giorno Heart sentendosi molto solo decide di scrivere questa lettera indirizzata a nessuno in particolare dove non si firma neanche dove apre il suo cuore il postino che è un coniglio ci sono postini magici qui quindi c'è posta per te dovrebbe essere un programma bellissimo in questo mondo comunque questo coniglio prende la lettera e la consegna e Heart dice ma come hai fatto a consegnarla se non ho messo neanche un indirizzo il coniglio fa non ti preoccupare io ho sentito a chi dovevo darla vabbò e a chi la dà a Mercy Mercy legge questa lettera e decide di rispondere a questa persona misteriosa e a sua volta questa lettera verrà mandata a Heart senza che i due sappiano a chi stanno arrivando queste lettere e a chi si stanno scrivendo e quindi comincerà questa corrispondenza che li farà avvicinare sempre di più quindi è un libro ovviamente molto romantico molto molto dolce e secondo me rende benissimo questo loro avvicinamento a poco a poco cioè secondo me il troppo il troppo della scrittura delle lettere della corrispondenza anonima secondo me è uno dei migliori e qui è reso veramente veramente bene in più non c'è neanche quella situazione un po' scomoda in cui uno dei due sa a chi sta scrivendo e non rivela la sua identità all'altro ecco e in più essendo romantasi secondo me la parte fantasy è molto originale e gioca una parte fondamentale della storia cosa non scontata perché molte volte la parte fantasy non è che proprio ma neanche un contorno è forse l'insalata che poi decidi di non mangiare che lasci in un lato del piatto ok quindi invece qui è costruita molto bene molto originale e funziona perfettamente con il resto della storia anche perché i cammini dei due protagonisti sono importanti anche individualmente parlando quindi seguiamo anche i loro due che indipendentemente l'uno dall'altro risolvono un attimo i loro problemi e compiono un arco narrativo molto molto bello entrambi devono crescere devono risolvere i loro problemi è molto molto commovente molto carino e ti lascia proprio quella sensazione di tranquillità di leggerezza proprio bello ecco il problema è che è un inglese abbastanza difficile paradossalmente uno dei più difficili che abbia mai letto che non te l'aspetti da un romance però usa un lessico abbastanza ricercato e in più tutta la parte che riguarda dalle pompe funebri a necessariamente delle parole che io proprio non conoscevo perché non avevo mai affrontato un contesto del genere quindi sì questo però si spera che magari un giorno verrà tradotto ecco lo saprete sicuramente da me un altro libro con cui vi ho già spaccato le palle ma continuerò ancora per tanto è Nettle and Bone della Kim Fisher questo verrà pubblicato a ottobre sembra quindi ringraziamo il cielo perché infatti la Kim Fisher è un'attrice estremamente prolifica che ha vinto tantissimi premi ha scritto di tutto ma nulla ancora è stato tradotto in italiano e questo secondo me è proprio un crimine un crimine però finalmente avremmo questo questo è un libricino abbastanza corto ed è un autoconclusivo è una storia con elementi molto fiabeschi molto dark ma anche molto divertente e come un po' tutti questi libri che vi ho fatto vedere come tutti i miei libri preferiti diciamo però ti lascia quel sentimento di speranza di rivalsa ecco seguiamo Marra la nostra protagonista che non fa podcast ma è una suora e infatti è la più piccola di tre principesse se non sbaglio erano tre mentre le prime due vengono date in sposa principi lei si rifugia in convento ma le va benissimo così perché lei è stata sempre molto passiva diciamo non è mai al centro dell'attenzione non le piace neanche l'attenzione e ama la sua vita al convento il problema è che però viene a scoprire che una delle sue sorelle è sposata con il principe ma è in grave pericolo e quindi decide di abbandonare tutto e di tentare di salvarla e appunto nel tentativo di salvarla incontrerà vari personaggi che si uniranno a lei in questa missione praticamente impossibile e appunto insieme a lei ci saranno una necromante il suo pollo impossessato da un demone una fata madrina che non ce la può fare un fuggitivo ricercato e un cane fatto di ossa quindi sì un bel gruppo sgangherato che però ci dà delle interazioni incredibili come vi dicevo questa è molto la struttura di una fiaba lo ricorda molto ci sono molti elementi che rimandano a quello oltre ai personaggi che abbiamo la fata madrina la principessa il principe eccetera eccetera abbiamo anche nella struttura della storia stessa elementi come la ricerca degli ingredienti quindi sì io ti darò quello che cerchi ma prima vammi a prendere il bocciolo della rosa della montagna avete capito poi anche il viaggio il gruppo di amici però questi elementi li ribalta anche a partire appunto dalla principessa il principe di solito è il lieto fine nelle storie la principessa che si sposa col principe in questo caso prende tinte anche abbastanza drammatiche abbastanza reali perché infatti si parla di violenza domestica con delicatezza ecco non con dettagli forti però se ne parla e anche di di figli perdita di figli quindi ci sono argomenti anche molto attuali ma abbastanza pesanti quindi prende gli elementi della fiaba per parlare anche di attualità ecco di argomenti sempre più pressanti che purtroppo non sono prettamente attuali ci sono sempre stati però se ne sta parlando adesso e lo fa appunto con questo tono sia da arcavolte ma anche molto molto divertente la Kim Fisher è una delle autrici più divertenti sia per come usa appunto questi elementi della fiaba sia per le interazioni tra i protagonisti sia per il sarcasmo e l'ironia che usa e lo scontrarsi di queste personalità molto diverse e lo fa in così poco tempo veramente crea anche delle amicizie in poco tempo crea ti affezioni proprio i personaggi al loro viaggio e c'è anche una sottotrama sotto 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 trama romantica ma che è veramente infinitesimale e niente io l'ho apprezzato tantissimo è stato il primo libro della Kim Fisher che ho letto ed è stato subito vero amore quindi se quello che vi ho detto vi ispira assolutamente leggetelo oppure aspettate ottobre per averlo in italiano finalmente poi abbiamo una trilogia romantasi e cioè quella di Daughter of No Worlds almeno io direi che questo primo è romantasi gli altri sono fantasy romance quindi più fantasy che romantici però la sottotrama romantica rimane questa autrice è arrivata in Italia però con la sua altra serie quella di I Serpente e le Ali della Notte se non sbaglio ha un titolo eccessivamente complicato non mi ricordo mai come cavolo si chiama che io non ho ancora letto però ho voluto prima provare questa serie che secondo me sarebbe stata più nelle mie corde e infatti l'ho adorata cioè l'ha adorata per quanto si può adorare una serie del genere però vabbè adesso vi spiego seguiamo la nostra protagonista Tisana mi farà per sempre ridere Tisana comunque Tisana è una schiava all'inizio del libro riesce a scappare da questa situazione orribile e cerca aiuto arriva in quest'altro regno per appunto cercare riparo ma soprattutto per chiedere aiuto per liberare il suo popolo e sconfiggere questo altro regno che vuole conquistare tutte le terre schiavizzare popoli eccetera eccetera e quindi in questo primo libro lei verrà affidata a un maestro di magia con cui lei cercherà di allenare la propria magia che è rimasta comunque stupita per tutto quel tempo e questo primo libro è incentrato soprattutto sullo sviluppo della coppia del rapporto tra lei e appunto questo maestro non è un rapporto studente maestro nel senso che sono entrambi praticamente alla stessa età non vi preoccupate per me è stato veramente una storia una storia romantica tra le più belle del fantasy lo so lo so è un rapporto veramente lento dolce sono un po' di batti vecchi all'inizio poi lui ha un vissuto particolarmente duro quindi non è proprio simpaticissimo come nei più grandi cliché del romance imparerà mano a mano ad aprirsi e anche il resto della serie secondo me per quanto riguarda i personaggi anche gli antagonisti è una piccola chicca veramente appunto gli altri libri si concentrano molto anche su gli antagonisti e secondo me l'autrice ha fatto un lavoro bellissimo sono antagonisti complessi per cui quasi tifi in un certo senso comprendi cioè ci dà proprio tutta la storia di questi antagonisti quello che non mi piace di questa serie è tutto il resto cioè war building e sistema magico che sono un mappazzone di roba incredibile non ha senso non ha capo né coda e nonostante ci sia molta guerra molta devastazione non viene mai descritta una battaglia non viene mai descritta una strategia diciamo che ci concentriamo molto di più sui personaggi però bene perché lei se c'è una cosa che fa bene questa autrice è descrivere le relazioni tra i personaggi i viaggi di questi personaggi il loro arco narrativo quindi se come me apprezzate molto questo siete disposti a passare sopra delle lacune nel war building sistema magico eccetera io questa serie ve la consiglio davvero tanto non me l'aspettavo ma mi è piaciuta davvero tanto poi ragazzi questo l'ho lasciato per ultimo proprio perché se appena vedrete il libro di cui sto per parlare comincerete a avere tremori e sintomi dell'infarto potete tranquillamente chiudere il video perché sto per parlare di Blackthorn e Grimm ebbene sì perché sto facendo tutta questa premessa per spiegazione per chi mi segue da due giorni io questa serie l'adoro c'è stato un anno in cui non ho parlato di altro ok l'ho letta tutta tipo in due settimane e a me non capita mai di leggere una serie tutta in una volta assolutamente questa non riuscivo a staccarmi un secondo se avete già sentito parlare in tutte le salse di questi libri ci vediamo un'altra volta bye bye se invece non sapete di cosa stiamo parlando sedetevi fatevi una tisana e preparatevi questa è una trilogia ambientata nello stesso mondo della figlia della foresta che è stato tradotto in italiano ok stanno traducendo piano piano tutti e sei i libri di quella serie quindi non so se un giorno magari riusciremo ad avere anche questo in italiano quel giorno io ascenderò al cielo però nonostante sia ambientata nello stesso mondo non è assolutamente necessario leggere prima la figlia della foresta perché in questo caso siamo in un altro secolo con altri personaggi quindi assolutamente non è necessario questa è una trilogia che in poche parole potremmo riassumere con Sherlock Holmes e Watson che risolvono misteri nell'Irlanda medievale un'Irlanda medievale fantasy perché infatti di cosa stiamo parlando allora noi troviamo i nostri protagonisti in prigione all'inizio di questo libro Blackthorn e Grimm una donna un uomo entrambi sui 30-40 anni quindi hanno già vissuto un pochetto della vita e la vita non è stata molto clemente con loro per dirla proprio per dirla con un eufemismo si trovano in prigione Blackthorn in particolare è riuscita a reggere tutto questo tempo in prigione tutti questi abusi tutta questa violenza semplicemente grazie alla sua sete di vendetta perché infatti lei non vede l'ora di essere finalmente processata e di cercare vendetta ai danni di chi le ha fatto del male non vi dirò di più perché è una cosa che si scopre mano a mano nei libri quindi comunque è una persona molto molto determinata con molta sete di vendetta il giorno del suo processo però le viene detto che invece di un processo sarà giustiziata e quindi lei è disperata è disperata non sa cosa fare ma riceve improvvisamente la visita di uno sconosciuto lei non ha idea di che quest'uomo sia è evidente che abbia però dei poteri magici che sia quasi di un altro mondo e questo individuo lo dice guarda io ti posso fare evadere posso fare evadere tu e tutti gli altri tuoi compagni di prigione però tu mi devi promettere che per sette anni non cercherai vendetta ti installerai in questo villaggetto in questa città e aiuterai tutti quelli che ti chiederanno aiuto lei nera lei è incredula è incredula perché lei l'unica cosa che l'ha portata avanti per tutto questo tempo è stato l'odio però accetta quindi riesce a evadere insieme appunto agli altri suoi compagni di prigione tra cui appunto c'è anche Grimm quest'uomo che ha conosciuto appunto in prigione e che è il tipico gigante gentile quindi è questo energumeno molto spaventoso molto forte che tutti reputano uno stupido e che in verità nasconde una grande intelligenza soprattutto una grande intelligenza emotiva e una grandissima devozione nei confronti di Blackthorn che lui proprio adora cioè bacia il terreno su cui cammina e quindi in ogni libro noi seguiamo Blackthorn e Grimm a cui verrà chiesto aiuto ogni volta una persona diversa chiederà aiuto a questi nostri due protagonisti e loro dovranno per forza di cose soprattutto Blackthorn dovrà accettare e tentare di risolvere il problema di queste persone ogni volta un problema ovviamente legato anche al folklore dell'Irlanda legato a il piccolo popolo magari a fai maledizioni sparizioni trasformazioni il tutto seguendo appunto questi due protagonisti che sono i protagonisti per me più fantastici più meravigliosi spettacolari di cui abbia mai letto Blackthorn e Grimm individualmente ma sia anche come Tim sono incredibili lei è una donna come vi dicevo inacidita ha un tantissimo rancore dentro tantissima rabbia e soprattutto verso gli uomini ha tanto dolore dentro è proprio la definizione di gatto nero e nonostante questo però appunto si ritrova a dover rispondere alla chiamata di aiuto di chiunque glielo chieda e poi oltretutto lei è pure una wise woman cioè una curatrice diciamo e quindi c'è questo strano assortimento di caratteristiche quindi una persona con questo carattere però nonostante tutto lei è una guaritrice invece poi abbiamo anche Grimm che come vi dicevo lui è questo gigante gentile che è sempre stato trattato malissimo e quindi ha sviluppato questa autostima inesistente praticamente e pensa di avere un valore in quanto persona solo nel momento in cui aiuta gli altri in cui si annulla per gli altri si aiuta una vicenda però anche individualmente ecco questo anche quello che mi piace tanto di questa serie è che questa non sia una relazione comunque codipendente in cui superano i traumi grazie all'altro ma è una relazione anche in cui ci si aiuta ognuno è la spalla su cui piangere dell'altro però anche individualmente loro riescono a risolvere i loro demoni ad affrontare i loro demoni e si parla come in Netto Lembon anche qui nonostante ci sia un contesto molto fiabesco di quest'Irlanda medievale però si parla molto di tematiche attuali come la molestia la violenza sia i danni di uomini che di donne l'importanza di denunciare di far sentire la propria voce il coraggio anche che ci vuole si parla di speranza di crescita c'è sempre una luce in fondo al tunnel diciamo questa a differenza di altre serie anche della figlia della foresta stessa che se l'avete letto sono tutti libri praticamente seguono queste ragazze molto giovani che partono da questo dall'innocenza diciamo e vengono molto quasi deluse dal mondo e si arriva alla fine del libro con sì speranza però queste ragazze hanno fatto veramente un viaggio che le ha devastate interiormente questa è un po' questa serie è un po' il contrario nel senso che inizia la serie con queste persone disilluse completamente dalla vita senza quasi uno scopo che riescono a guarire quindi anche se affronta queste tematiche molto molto dure è un percorso proprio di guarigione di speranza di rivalsa ecco io sono senza parole potrei parlarne a lungo andare di questa serie non è romance cioè nel senso magari potrebbe no però indipendentemente dal fatto che sia una relazione romantica o no diciamo che loro due sono un team che va oltre diciamo romantico proprio una un'amicizia non so neanche come definire però non aspettatevi baci fusioni triangoli no ok l'importante è proprio l'indagine del personaggio è veramente una serie incredibile niente per ora è potuto arrivare alle stesse altezze di questa serie per me però è una cosa molto personale ok quindi so che non tutti potrebbero apprezzarla però io ve ne parlo lo stesso comunque dopo circa 677 ore siamo arrivati alla fine di questo video ditemi voi se avete dei libri fantasy che secondo voi meriterebbero molto di più perché sicuramente a me piacciono cioè se non se li cacca nessuno a me piaceranno tantissimo e niente quindi se vi piace mi faccio iscrivetevi pure se vi piacciono e cavolate che dico dico molti più su Instagram che come al solito sono in descrizione e noi ci vediamo alla prossima bye bye come ho salutato tipo vabbè ciao